buongiorno ragazze allora oggi è il giorno in cui ho fatto il blog e per cui mi vedete sempre così non mi sono truccata per fare questo video perdonatemi però mi sono fatta le sopracciglia i baffi non dovrebbero vedersi cose strane va bene andiamo avanti allora avevo fatto il video dei prodotti finiti di febbraio mi pare questo è prodotti finiti di marzo e metà aprile ci metto tutto dentro così poi non ci penso più il video dei prodotti finiti di febbraio però in cui avevo terminato ben tre cose del progetto smaltimento perché ho qua il fogliettino l'ho cancellato perché ho cancellato tutti i video nei quali non mi sento e non mi vedo bene allora quel giorno lì in cui ho registrato il video avevo una giornata terribile e riguardare quel video mi faceva ricordare quella giornata non che oggi io sia ritratto della felicità perché sono finita sono finita sono stanca morta però perlomeno dopo riguardando i video non mi sentirei male nel vedermi così è una stanchezza dovuta a alcuni fatti che mi sono successi non solo al lavoro però ecco non proverei quella tristezza che ho provato nel vedere il video dei terminati di febbraio quindi su youtube voglio sempre ricordare i bei momenti questo non è che sia proprio la giornata bellissima anzi tutt'altro però lo sto prendendo un pochino meglio e per tenerci compagnia siccome sto aspettando una telefonata che mi crea un po di ansia per tenerci compagnia andato faccio questo video anche allora ho terminato questo shampoo della Sien Natur con miele di Manuka eccolo qua questo è quello che assomiglia agli ultradolci vedete anche la confezione molto somigliante all'ultradolce io ne avevo già presi diversi tipi ma non mi erano piaciuti l'unico tipo che mi è piaciuto è stato questo il miele che li comprei sicuramente perché lavava bene i capelli senza seccarli invece gli altri non mi erano piaciuti poi un balsamo che purtroppo non ricordo dove ho preso ma se lo ritrovo ne compro tipo 10 confezioni perché è difficile da trovare è questo balsamo capelli morbidi e setosi di l'erba l'essence questo marchio qua non è proprio famosissimo però fa degli shampoo che sono buoni è tipo sunsic questo balsamo al mandarino però in particolare capelli morbidi e setosi è una cosa meravigliosa cioè io spero solo di tornare dove l'ho comprato forse dovrei guardarmi anche i miei video all precedenti se non l'ho cancellati e vedere dove ho comprato questo balsamo perché ne vado a comprare 10 confezioni rende i capelli morbidissimi non serve neanche mettere la maschera e in più costa veramente poco quindi risparmiate perché non spendete soldi per acquistare la maschera per i capelli visto che questo vi fa da maschera e costa tipo 2 euro poi il detergente viso di omia che è il mio preferito e lo uso sempre l'ho ricomprato la terza o quarta volta che lo ricompro qua è acquitta non è detergente perché io poi verso la fine lo diluisco mi piace tantissimo è neutro non dà fastidio alla pelle non tira la pelle deterge molto bene il viso ha un profumo molto buono lo consiglio e continuerò a ricomprarlo poi primo prodotto di make up che vi mostro terminato ma che non fa parte del progetto smaltimento cioè l'ho terminato solo per utilizzo non per smaltirlo perché dopo tante volte che uno utilizza qualcosa si termina e quindi questo eyeliner della fingertip di sephora viola non scrive quasi più niente cioè proprio fa queste strisce che sono molto deboli non si riesce a finire neanche un occhio quindi lo cestino è finito per me perché veramente non ce n'è più e sono stata molto contenta di averlo utilizzato i fingertip di sephora è da un po' che sono in commercio e li adoro poi ho finito questo profumo al papavero che mi era stato regalato per il compleanno anche questo mi è piaciuto tantissimo però non lo ricomprerei perché mi ha un po' stufato la profumazione in ogni caso vi consiglio di andare a sniffarlo perché è molto molto buono poi ho terminato questo shampoo argan oil che mi avevano regalato da Keppro Shop se vi ricordate da Keppro Shop mi avevano regalato con una spesa di 25 euro prima uno shampoo e poi un altro quello dell'altra linea non mi era piaciuto questo della linea l'argano invece mi è piaciuto tantissimo perché sgrassava bene il capello senza seccarlo mentre quell'altro che non mi ricordo se era macadamia seccava i capelli questo top se ritorno e mi vogliono regalare un altro shampoo devo ricordarmi di scegliere questo non quell'altro poi ho terminato la cremina della Nivea questa qua rosa in questi mesi mi sono data lo smaltimento selvaggio delle cre... selvaggio? scusate se sono dislessica purtroppo mi succede quando sono in ansia ha lo smaltimento selvaggio di creme e quindi ho finito anche questa qua di Nivea una crema profumata dal profumo delicato di frutti rossi abbastanza idratante non la ricomprerei però piacevole da usare se l'avete tiratela fuori e smaltitela anche voi poi questa crema perché mi sono data lo smaltimento selvaggio anche delle creme viso ho terminato questa crema viso di Tony Moly dal packaging pazzesco perché è troppo troppo bello infatti penso che la terrò per metterci dentro qualcos'altro e ora ve la mostro ma non la cestino penso è una crema idratante molto semplice forse perché la pelle secca non va tanto bene perché non va ad idratare a fondo non è proprio idratante a fondo la consiglierei di più perché è una pelle grassa e io l'ho comprata solo per il packaging comunque l'ho finita è buona però per me non va bene perché ho la pelle secca e poi salviettine però qua non ve le mostro perché comunque secondo me non ha senso mostrare le salviettine poi ho terminato il primo prodotto del progetto smaltimento questo spray illuminante di Essence io non lo usavo come illuminante ma come base illuminante perché ho usato sopra il trucco questo qua vi toglie il trucco è terribile non lo ricomperò mai più e sono stracontenta di averlo finito purtroppo voi non avete visto perché l'ho cancellato il video i prodotti del mese scorso ero riuscita comunque a finire la matita di Style la matita viola di Essence un'altra matita di Essence ero comunque riuscita a finire delle cose rieccomi allora ho ricevuto la famosa telefonata non dico niente per privacy vado avanti perché comunque su YouTube non voglio portare le cose personali vado avanti e vi mostro quest'altro che ho finito sempre del progetto smaltimento ed è questa matita illuminante di Essence che mi aveva regalato Jessica del canale De Russia Tati che vi lascio giù nell'info box questo illuminante è un bel colore però io continuo a preferire gli illuminanti per quanto riguarda proprio illuminanti sia occhi, viso, base cose così in polvere in cialda quindi non in spray e non in matitone perché fanno sempre un difetto in spray ti tolgono il trucco in matitone ti fanno un po' le righe le pieghe sull'occhio niente io adesso quando avrò finito tutti gli illuminanti che ho comprato in spray o liquidi prenderò solo in cialda perché non mi ci trovo proprio benissimo poi ho terminato la hula questa non era del progetto smaltimento ma l'ho terminata per utilizzo ed eccola qua finita che soddisfazione finire il make up ho finito anche questa cipria traslucida di essence anche questa è proprio una bella soddisfazione anche perché non faceva parte del progetto smaltimento ma l'ho finita per usura e altro make up finito per usura è questa cipria traslucida della peach blur di Too Faced vedete proprio l'ho scavata tutta e ho finito due ciprie traslucide più la terra di hula perché ultimamente causa stress ho diversi difetti alla pelle e quindi cerco di coprire il più possibile ho utilizzato parecchio make up sia a marzo che adesso nella prima quidicina di aprile proprio perché ho la pelle che adesso oggi ancora ancora mi stanno sparendo un po' di rossori un po' di cose ma avevo la pelle disastrata proprio causa stress poi del progetto smaltimento un'altra cosa che ho finito è questo questo mascara last to kill di Catrice io l'ho adorato adoro questo genere di mascara last to kill Catrice è un mascara faboloso non so se potete trovarlo ancora nei negozi perché non è recente vi piega e allunga benissimo le ciglia e costa meno di 5 euro quindi stra consigliato last to kill però deve essere fatto così perché gli altri invece no poi è terminato questa maschera occhi vedete era solo occhi di un'edizione limitata di Kiko che se sapevo che era così buona ne avrei comprato ancora perché dopo aver fatto questa maschera mi sentivo la pelle molto idratata è stata molto piacevole farla è un'edizione limitata per cui non si trova più però se la ripropongono da Halloween quest'anno insomma novembre la ricompro anche 2-3 pezzi perché mi è piaciuta è poi molto carina poi ho terminato questo intimo acqua sorgiva di Nivea molto buono questo intimo adesso sto finendo anche l'altro quello dell'altra profumazione questa è mousse detergente rinfrescante con estratti di timo l'altra non mi ricordo che cos'è però è una mousse per proteggere le parti intime che è molto valida non dà irritazioni e dà una bella sensazione insomma poi ho terminato questo detergente viso di Arcalia questo qua con olio di ciliegia sì buono mi è piaciuto però non lo ricomprerei ecco io preferisco i detergenti viso non in latte detergente ma proprio detergenti in gel perché il latte detergente è un po' più difficile da risciacquare poi ho terminato ragazzi ho terminato perché io proprio mi sto dando lo smaltimento selvaggio anche un illuminante eccolo qua illuminante della Makeup Revolution eccolo qua finito finito che bello perché adoro gli illuminanti in cialda ne metto anche parecchio quando mi trucco e finalmente sono riuscita a finire un illuminante poi ho finito anche questo siero di Biotherm l'acqua source molto buono è un siero che avevo preso circa un anno fa costa 45-50 euro dipende se lo trovate in offerta ma è comunque molto valido perché va ad idratare quelle zone che la crema da sola non idrata tipo le zone qua qua sotto gli occhi in cui ho la pelle molto molto secca questo mi andava a trattare benissimo non lo ricompro perché mi piace cambiare il prodotto però è un prodotto veramente valido perché idrata proprio a fondo la pelle e buono poi ho terminato questo igienizzante mani sempre della versione Disney di Mercy Andy eccolo qua ne ho ancora due da terminare di questa versione sono i soliti igienizzanti mani ve l'ho mostrato giusto per soddisfazione di farvelo vedere poi ho terminato il profumo Aura Jolie che è il dupe di La Vie est Belle si può trovare da Lidl è un dupe fedelissimo di La Vie est Belle e vi consiglio di andare a prenderlo perché i dupe di Lidl secondo me sono i migliori poi ho finito questa crema questa crema qua di Clarence Hydral Essential o Hydral Hydra Essenti vabbè comunque è una crema idratante per il viso con fattore di protezione 15 mi è piaciuta ma non comprei la full size perché la trovo comunque abbastanza normale non è una crema che mi ha fatto impazzire è idratante sì però non mi ha dato quel qualcosa in più poi ho terminato questo siero della Pep sì della Pep della D'Ortojart eccolo qua mi avevano dato questa mini taglia di siero e l'ho usato tipo 4-5 volte onestamente non mi ha detto niente cioè buonino idratava sì però non mi ha fatto impazzire quindi non penso prenderei la taglia quella la full size perché dal campioncino sinceramente non ho visto grandi risultati poi due prodotti del progetto smaltimento altri due prodotti del smaltimento allora questa matita per sopracciglia di essence eccola qua si vede ancora il numero la numero 06 strawberry blonde eccola qua non era proprio adatta a me perché io ho le sopracciglia più scure però diciamo che sono riuscita ad utilizzarla lo stesso poi vedete che qua è finito perché sono andata a scavare anche sotto tra le pareti ho scavato il più possibile per prendere più prodotto possibile ce ne sarà rimasto ancora un po' dentro però il più l'ho scavato quello che è rimasto dentro mai è secco ed è questo mascara colorato di essence finalmente è finito adesso mi manca da finire quello blu ed era il numero 04 b fan e lì al l'ayal questo qua quindi del progetto smaltimento ho terminato altri 1 2 3 4 altri 4 prodotti del progetto smaltimento per cui sono felicissima di questo vi voglio far vedere anche questo temperino che cestino è un temperino di bottega verde che è durato pochissimo perché le prime volte mi tagliava bene si mi tagliava bene temperava bene le cose le altre volte invece schifo bene ragazze vi avverto che ho anche finito la crema della nivea quella che sa di ananas quella gialla praticamente la gemella di questa però in versione gialla ma non so più dove l'ho messa quindi al limite ve la faccio vedere nel prossimo video perché tipo l'ho finita oggi e forse ancora in bagno al limite ve la faccio vedere nel prossimo video comunque la gemella di questa sparita va bene sparisco anche io e ci vediamo nel prossimo video ciao ciao